Dolci e guerra, cosa potrei chiedere di più nella vita? Niente! Che cos'è? Il lanciamissili! Uh, aspetta che arrivo! Dove sei? Adesso non ho capito di dove sei! Non hai capito! Ho preso il lanciamissili e l'ho sterminato subito! Leggi! Cosa? Cosa, scusami! Leggi questo! C'è davvero l'overboard? Oh mio Dio! C'è davvero? Prendilo, prendilo subito! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Momi! Momi, dove sei? Andiamo, scendiamo, scendiamo di sotto! Aspetta! Che succede? Vedi che nel cielo c'è una cosa blu? E ragazzi, come va? Io sono Fereniki! E io sono Steph! E questo gioco è il maroblox! E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Sammy, Isabella, Yaslin, Rickdad012, Picasso25, Matilde! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione! Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi! E se ci volete aiutare a vincere la Consolini War, lasciateci un bel like! E siamo su Roblox! Per la mia felicità, sai cosa andremo a fare oggi? Ah-ha! La Donuts Factory Tycoon! Quindi, ovviamente, come si vede già che quando ci vediamo qua, è una fabbrica di ciambelle! Bellissimo! Questa lo sai che ce l'hanno anche consigliata nei commenti? Sì! E hanno specificato che mi sarebbe piaciuta tantissimo, in effetti è vero, perché io amo i dolci e lo sa chiunque! I Consolini non sanno quanto tu amo i dolci, dovete vedere quanti ne mangio ogni giorno, è una cosa davvero incredibile! E poi mi lamento che divento ciccione! Se potesse si mangerebbe ciambelle così grandi, quindi lasciamo... No, davvero, ne mangio in una quantità industriale, mi piacciono troppo, mi piacciono più del salato, quindi ne mangio davvero, davvero tantissimi! Lo so! E poi ci prendiamo, questo? Questo, questo, mi piace, è una bella posizione, siamo abbastanza isolati! Possiamo prendere questi 67 dollari iniziali e avviare la produzione! No, ma è tutto rosa in questa produzione! Vedi a vedere! È tutto rosa e dolcioso! Guardale le quattro ciambellotte! Guardale, guardale! Vedi, quel bambino aveva inviatato Petaloso e inventò dolcioso! 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 O ciambelloso! Ciambelloso mi piace di più! È tutto pieno di ciambelle e dolcetti, come piace esattamente a me! C'ho le ciambelle sopra, lo vedi? Uh, ecco quello che ti dicevo, fa le ciambelle enormi! Ecco, queste sono già enormi! Attenta, attenta, attenta dietro di te! Uh, 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 chi sei? Chi sei? Scusami! È armato, è armato, aiuto! Sono i missili! Ma ha fatto un fumo incredibile! Perché noi non abbiamo ancora i missili? Attenta! Come facciamo a picchiarlo? Non lo posso picchiare con le mani? No! Non abbiamo armi, ma si uccide! Lo devo confondere sentandoli sopra la testa! Confondiamolo, perché secondo me sta laggando, guardalo! Poverino, ti abbiamo sconfitto saltando! Dai, dai, torniamo alla nostra produzione! Ok, è scappato! Torniamo alla nostra produzione! Prendi i soldi e costruisci l'altro dropper! Vai, vai! Mi stai dando degli ordini? Sì! Mi stai dando degli ordini? Sì, perché non vedo l'ora di vedere tutte le ciambelle che usciranno da questa fabbrica! Ok, e allora pronta la seconda? Vai! 3, 2, 1, eccola! Questa è celeste! Prima le ciambelle verdi, poi i celesti! Ah, questa è blu! Guardala! Guarda quanto è blu blu! Eh, però il dropper è celeste, scusami! Eh, no, hai sbagliato! Vabbè, le ciambelle sono celesti, blu siamo lì! Non sarà puntualizzare! Guarda, è iniziata a comparire un po' di cose! Allora, rocket launcher costa 340 di quello che aveva il tipo, eh! Perché ci stava quando come lancia a missili! Poi, il rifle che dovrebbe essere un fucile! E il golden roped, non so proprio cosa sia! Hai notato una cosa? Che di solito i tecun iniziano con te che puoi prendere tutte le cose per aumentare la produzione! Qua ci stanno subito dando le armi, quindi qualcosa vorrà dire! Vuol dire che qua ci potremmo picchiare malamente con gli altri player! Si parte con le ciambelle facendo finta che sia una cosa dolce, ma qua ci sarà guerra! Cattivissima, mi sa! Dolce e guerra! Cosa potrei chiedere di più nella vita? Niente! Una pizza! Questo è un fucile, oh mio Dio! Aiuto! Nuova tattica, saltale di nuovo addosso! Vai di nuovo, finché non abbiamo armi! Oh mio Dio, sto volando via! Finché non abbiamo armi cerchiamo di saltare lì, sto proprio possibile! Io sono bassissimo, mi ha quasi ucciso! Anche a me, anche a me! Vieni, no, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Sono morta, sono morta, guardami! Appena le esusciti, ti tirati, prendi questo! Che cos'è? Il lanciamissili! Uh, aspetta che arrivo! Dove sei? Adesso non mi dico qui dove sei! Non hai capito? Ho preso il lanciamissili, l'ho sterminato subito! Ma non mi hai lasciato neanche il gusto di lanciargli un missile! No, 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 l'ho proprio massacrato! Allora, facciamo subito una cosa! Io vado, mi prendo il missile, così se arriva qualcun altro io sono già pronta! Ok, va bene! Allora, sono già qui! Basta che non mi spari a me! Mi metto qua di vedetta e non arriverà più nessuno! Ma secondo me ho già capito la lezione, cioè proprio l'ho distrutto immediatamente! Lo spero, lo spero! Credo che abbia capito! Comunque io ho visto una foto, non ti voglio illudere perché non sono sicuro che ci sia, dell'overboard! Ma scherzi? No! Ma sì che c'è quello! Mi sa proprio che c'è! Lo sai che l'ho visto anche nello shop, praticamente, si possono comprare altri oggetti per personalizzare il nostro personaggio, quello l'ho visto! L'ho visto, cioè, è una figata, ma ci puoi davvero andare dritto? Cioè, pattini? Sì, 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 sì! Io pensavo fosse solo per estetica, invece ci cammini davvero! Abbiamo accumulato tantissimo! Praticamente 6.000! Allora, 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 allora! Con questo possiamo aggiungere la seconda stradina, però non c'è nulla da mettere per ora, quindi non ho capito cosa... Vabbè, è un inizio, è un inizio! Allora, oh mio Dio! Ho capito adesso come funziona! Guarda! Ok, ti seguo! Praticamente io con questo estendo questa strada! Oh! Oh, è carinissima! Guardala! Oh mio Dio! È carinissima! Scherzi! Bellissimo! Oddio, attenta che c'è di nuovo un tipo! Allora, non ti permettere, vattene! C'è il secondo piano per 10.000 dollari che purtroppo in questo momento non abbiamo! Non cercare di colpirlo mentre vola, poverino! Ok, l'ho colpito! È bassissimo! Parli tu, parli tu, davvero! Guarda che bellina questa cosa con le lucine è fantastica! Mi piace tantissimo! E poi aggiungiamo la Dentidm Donut Drapper! Ci fa le ciambelle di Dan! La ciambella di Dan, che è uno youtuber inglese che non tutti conoscono! Nella mia fattoria! La tua fattoria? Scusami, la mia fabbrica! Ti sei fatta la tua fabbrica? Sì! E chi ti ha dato il permesso? L'ho fatto da sola! Stai facendo le tue ciambelle? Sì! Cioè sei diventata la mia rivale? Perché le tue non mi bastavano, quindi ho deciso di fermare! E poi guarda, guarda, aspetta, cerco di non colpirti! Ho preso la, si mi viene da dire, fattoria invece, fabbrica accidenti! Di fragole, quindi rosa, e guarda, sparo un missili rosa, è bellissimo! Tu li dovresti sparare marroni come cioccolato, giusto? Perché hai la fabbrica di cioccolato! La fabbrica di cioccolato! La fabbrica di cioccolato! Bellissimo quel film! Dai, torniamo alla nostra superproduzione! Abbiamo tantissime cose da fare in questa mappa, è bellissima! Allora, possiamo aggiungere un altro upgrader che dovrebbe migliorare tutto tantissimo! Quindi i soldi adesso dovrebbero aumentare di tantissimo! Assolutamente! Dietro di te! Oh, che noioso che sei! Salta, salta, attenta, attenta! Ecco qua, ti ha di nuovo ucciso! Guarda, posso finalmente aggiungere qualche dropper qua! Oh mio Dio! Oh, che bello questa cosa tutta colorata! Guarda, vedi che butta giù cose colorate carinissime! Ho mai visto che questo è di cioccolato? Ho visto questi di caramelle, penso, così colorato e fantastico! Che carino che è! Bellissimo! Davvero bellissimo! E qua c'è il Cream Donut Upgrader da 4200! Ma lo vedi che è il monopattino! Non ci credo! Voglio il monopattino anche io! Lo sto distruggendo! Ho visto? Vai, ricolpiscilo! Boom! Hai visto che adesso non ero distratta e ho vinto! È così che funziona! Bravissima, bravissima! Grazie! Allora, posso prendere questo, ok, che potenzia tutto, quindi adesso con i soldi, guarda! Ok, abbiamo aspettato un bel po' e abbiamo 18.000! Allora, io direi di comprarci delle belle mura, vediamo, secondo me saranno bassissime, me le aspetto super basse, ecco qua! No, anzi, c'è il vetro qui! No, no, li ho comprati dopo, il vetro, ci sono salito per sbaglio sopra appena ho comprato il primo! Vabbè, a sto punto compriamo anche l'Upgrade Walls! Carino! Oh, che carino però! Carino questo! Mi piace! Ok, allora ci compriamo anche il Loaner, così non possono più entrare da qua! Ma non posso entrare neanche io! Anche se tanto lui solazza! Ah no, me la puoi aprire? Esatto, vedi? Ok, perfetto, perfetto! Sì, 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 nel bottone c'è sempre, questa cosa è bellissima! Allora, adesso ci possiamo comprare, la stradina la voglio! Bellissima! E' sempre la mia cosa preferita, la strada! Anche a me piace un sacco! E' troppo bella! Allora, ci prendiamo altri soldi e possiamo mettere, guarda da questa parte, il Giant Donut Dropper! Mi ha perso in faccia, enorme! Oh mio Dio! Avevo pensato a qualcosa di gigante, ma non così tanto! Guarda che cerco di salirci, lo voglio vedere bene! Cosa stai facendo? Cercando di salirci, è gigante! Guardami! Guarda quanto stanno in alto! Bellissimo, bellissimo! Poi possiamo comprare, allora... Secondo piano? No, abbiamo un altro Upgrader che doveva aumentare tantissimo i guadagni! Ok! Ok, ho avuto paura di essere crashato, mamma mia! Mi ha fatto uno scatto e mi sono spaventato tantissimo! Ok, e a questo punto abbiamo 19.000! Quindi io direi che potenziamo ancora i muri! Ok! Vabbè, dai, ci ha messo poco poco! Ma poco, cioè non è possibile! Secondo piano! Dov'era? Tu, 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 tu! Qua, 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 qua! Questa parte, sì, qui dietro! Oh, cosa ha aggiunto? Non lo so! Aggiungiamo le scale! Ah, è questa parte qua! Oh, mio Dio, che carine! Oh, che carine! Che carino! Però che me l'hanno fatto! Bellissimo! Sì, è carinissimo! Bellissimo! Allora, questo costa 10.000! Non ce li abbiamo! Cosa stai facendo con quel tappeto? È bellissimo, è bellissimo! Lo so! Allora, ragazzi, dovete vedere questa cosa, è davvero fantastica! Praticamente, al piano di sopra, c'è questa stradina solita! Il dropper! E praticamente, però, le cose scendono e vanno in quello gigante che abbiamo sotto! È tutta una produzione unica, che è tutta insieme! È geniale! Che lavora benissimo, è bellissimo! È davvero geniale! Guardate, abbiamo già messo altre cose! Allora, possiamo mettere anche quest'altro da 8.000! Che carina! Guarda, tutto colorato! Ok, adesso ci manca! L'upgrader da 4.000! Questo da 6.000! E questo da 6.000! Credo che non manchi troppo! Fra un pochettino, probabilmente, sblocchiamo la zona dove si prendono tutti i monopattini e quelle cose, perché abbiamo visto che quello là aveva il monopattino! Sì, sì, sì! E io non vedo l'ora nel mentre! Ciao! Quanto è bello il tappeto volante! È bellissimo, è bellissimo! Andiamo ad uccidere un attimino quelle Phantomius 2 di prima! Ma poverino! Ci ha amassato un sacco di volte! Aspetta! No, veramente siamo stati sempre noi! Aspetta, aspetta! Che succede? Vedi che nel cielo c'è una cosa blu? Che sarà? No, non andare troppo lontano! Dove sei? Vieni, vieni, vieni! Andiamo a vedere! Secondo me è qualcosa! L'hanno messo apposta per chi prende poi questo! Vedi che è raggiungibile? Ma dici! È un posto segreto! Sì, 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 sì! Vedi? Guarda, guarda, guarda! Ci stiamo arrivando! Cosa è? Non lo so! Abbiamo fatto un achievement! Mystery Donut! Sì, l'ho preso anch'io! Fantastico! Sì, è un posto segreto che puoi raggiungere solo col tappeto! Bellissimo! Bellissimo! Guarda, sono tutti felici! Tutti felici che sei arrivato qui sopra! Guarda quanto è lontano il posto! Sì, stiamo guardando infatti dove ci troviamo noi! Bello! Bello! Abbiamo scoperto un posto segreto! Hai visto che occhi che ho? Eh? Sì, guarda! Io pensavo fosse... Cioè, c'è un punto tipo un bug della map! Lo so, lo so! Anche io l'ho preso il topo e ho fatto... No, non può essere! Era talmente lontano che non si capiva neanche cosa fosse! Bellissimo! Comunque, guarda quanto diventa grande la base! Perché questo qui, quello col tetto, l'ha finita! Cioè, mi sa che alla fine è tipo da quattro piani, una roba del genere, vedi? Sì, sembra anche a me la sto cercando di guardare attraverso le finestre, sembra da quattro piani! Però a me è gigantissimo! È una cosa super gigante! Ma torniamo a noi perché dobbiamo finirla anche noi, assolutamente! Assolutamente! Allora, abbiamo altri 35.000? Ok, ce l'avevamo e non ce ne eravamo a corti! Oh mio Dio, è bellissimo! Io sto ferma perché non riesco a guidarlo! Io! Inizio a generare... Guarda che cosa ho! Che cos'hai? Non lo so, cosa fa? Una spada! Ti ho dato un rito e ti ho distrutto! Ma scusami, eh! Ma l'hai vista che è un unicorno? Cioè, l'hai guardata bene, guardala! Guardala dal mio schermo! Non è che ti perdono così, che mi ammazzi e poi mi stai già distraendo di guardare l'unicorno! No, devi guardare questo unicorno! Col cavolo che lo guardo! Mi hai spezzato in due! Boh! Allora, ascoltami un attimo, dove sei? Da nessuna parte! No, 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 non ti voglio uccidere! Però c'è un tipo dietro di te che forse ti vuole uccidere, lo vedi? Sta entrando nella tua zona! Non ti permettere! Aiuto! Guarda come guido bene, guarda! Ma dai, ti stai schiando! Perché salti così tanto? Non lo so, è impazzito il mio monopatto! Sono caduta fuori dalla mappa! Ma è un monopattino pazzo! Mi sono esplosa! Aiuto! Vai! Terzo piano, boom! Ok, sali! Guarda le scale con le ciambelle! Bellissimo, guarda! Allora, possiamo potenziare i muri e lo facciamo subito! Potenzia i muri ancora! E potenzia ancora i muri! E potenzia il tetto! E di nuovo il tetto! Questo è l'ultimo piano, quindi tre piani! Finito! Ok, adesso, allora, abbiamo il random hat, quindi un cappello a casaccio! Vai, vai, i capelli, i capelli! Poi qua, ci sono, aspetta! Tutti random hat, probabilmente capitano diversi! Leggi, leggi! Cosa? Cosa, scusami! Leggi questo! C'è davvero l'overboard? Oh mio Dio! C'è davvero? Prendilo, prendilo subito! Subito, subito! Butto tutto così? Sì, sì, sì! Non mi interessa, lo stavamo aspettando da una vita! Oh mio Dio! Adesso andiamo da Momi! Andiamo da Momi! Aspetta, come ci salgo? Dovevi buttare per te e poi ci... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Momi! Momi, dove sei? Andiamo, scendiamo, scendiamo di sotto! Ma a volte mi posso buttare? Sì, sì, sì! Aiuto! Mi hai visto? Sì, io sto saltando da una porta all'altra! È una molla! Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, sono cascata! Perché salta come una molla questa cosa? Non lo so, aspetta, dov'è la porta? Dall'altra! Ok, scusami! È un po' complicato, eh! Ti fa trovo ridere che il personaggio è rigidissimo come nella realtà! È rigidissimo! Fermo così, capito? Vabbè, perché tu nella realtà come senti su questa cosa? Esatto, è per quello che è divertente! Ho un problema gigantesco! Aspettami! Stavo cercando di togliere l'overboard perché non si capisce come si toglie! Io sto volata in altissima! Ti ho appena visto a volare! Ma io sono messo peggio! Ho perso il controllo totalmente! Ho il monopattino incassato dentro l'overboard! E il mio personaggio non avevo mai più sapere di fare qualsiasi cosa! Cioè, non so che fare! Continuerei a girare così all'infinita! Aspetta, provo a muovermi! La verità è che non ho capito come si toglieva l'overboard! Rimarremmo così per sempre! È ora di fare shopping! 120.000 da spendere tutti di fila! Allora, io inizierei dai capelli! Subito, subito! Oh mio Dio! Ciao! No, allora fammeli vedere tutti e poi lo scelgo! Vediamo! Eh, no, questo rosto è il più bello! Ma mi rimane con i capelli! A me sta malissimo! Poverina! Allora, poi... Non lo voglio più! Cosa ci compriamo? Perché abbiamo il Rainbow... Scusami! No, scusami! Penso di aver capito bene! Scusami! Non ci credo! Non ci credo! Sono esplosa! Non ci credo! Cosa sta succedendo? Sono esplosa! Non so perché! Non riesco a guidare l'unicorno! È pazzo! È totalmente pazzo! Io non so perché quando l'ho preso sono esplosa! Non vorrei dire! Perché è pazzo! È impossibile da guidare! Scendi allora! Scendi! No, no, ci devo riuscire! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cos'è questa cosa? Ma serve a qualcosa? No, è solo per bellezza! È solo per bellezza! È casinissimo! È un'opera d'arte! Guardate la spiego! Che significa che tutti amano le ciambelle! C'è il cuore che significa amore per le ciambelle! Bellissimo! No, cosa c'è lì? Aspetta! Aspetta! No! 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 Non ci credo! Datemela! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè io lo vorrei troppo! Un motorino rosa porta ciambelle! Ma chi è che non lo vorrebbe? Difficilissimo da guidare, peggio del monopattino! Aiuto! Sto cadendo! Dove sei? Ma come fai? Cioè stai volando! Perché ho una divisa strana? Che mi è successo? Io sono diventato totalmente Mr. Biscotto! Ma io ho una divisa della Nike con i pantaloni dell'Adidas! Non si sa perché! È la faccia da biscotto! Non capisco! Questo? Mi sono trasformata! No in zombie! Voglio essere uno zombie! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardaci! Oh mio Dio! Siamo degli zombie con delle ciambelle verdi in testa! Ciao! È fantastico! Abbiamo finito? Sì! Abbiamo finito tutto il tycoon! È fantastico ragazzi! Giocatevelo perché è fantastico pure questo! Io adesso prendo la moto, dato che abbiamo finito me ne posso andare in giro in moto! No! Voglio prendermelo anche io! Mi prendo anche la spara in 8 bit! Allora! No! Non cascare! Non cascare! Aspetta! Ok! Ci fermiamo così! La povera Ferinichi è qua sotto il terreno! Si è totalmente bugata! Voi non mi vedete dal suo monitor ma sono lì! Non so perché mi sono bugata! Non funziona neanche il reset del personaggio! Quindi rimarrò qui per sempre! Poverina! Le ne capita sempre una peggia dell'altra! Comunque è mappa davvero bellissima! L'abbiamo finita tutta! È stata super 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 divertente! Mi sono divertito tantissimo! Anche io! Bellissima! Poi un tycoon con tre piani così! Davvero fantastico! Con così tanti veicoli! Sì! Non l'avevamo mai trovato così! Sono felicissima di averlo giocato! Ma prima di finire il video andiamo ovviamente a salutare gli altri nostri sei eroi del giorno! Che per oggi sono Stikier, Carlo, Yuli-Chan, L-Minecrafter! Questi sono tutti difficili! Ok! Te lo dico! Marco e Wait! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione! Beh ragazzi! Non ci vedete così! Sì, se è la prima volta che vedete un nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.